Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Chvised! Chvised! Ch danced! Egli che lo faccio. che ora che 5 in cano xd ora che 5 in cano la mia vita è stata a rispondo non è come per me viene a rispondo ma non lo sapevo non è appena per farlo ora che ti faccio una foto che ti faccio con il puto maquillaggio ah a ver ostia adievo che l'ha fatto Merechino. La tua puto con la pipa, Gustavo, me lo ha matato. A mí no me vuelves a arrastrarlo a un puto, la verdad, que no entiendes. Que yo no he cogido esos chalecos, por favor. Ay, mamá, joder. Tranquilo, tranquilo. Ha sido un golpecito de nada, ya verás. Un golpecito. Tranquilo, gato, va a salir bien. Madre mía, ahí está. ¿Ves? No pasa nada. Y, además, piensa que ahora tu foto va a quedar guapísima, ya verás. A ver la foto. ¿Qué foto? Ahí va a salir la foto, a ver. Sí, sí, ahí va a salir. Se ve bien, ¿no? Pero espérate, que te la hago. Ahora te va a quedar como muy sangrienta, ya verás. Bueno, bueno, eh… ¿Puedo ponerme una cosa, por lo menos para ser respetado en la federal? No pasa nada, porque está cerrado. ¿Puedo ponerme outside? ¿Puedo? www.ucasi.it õite новa Ah, 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 ah. Lo fui ritari male, ah. Mаюсь che va, ma di presociali. Necotane lui. Necotane lui. Nu yo è pieno. E quello che prendi. Sì, 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 sì. BOSS! BOSS! Alla cosmo ma e torriva molto bene! Cosmo ma e BOSS torriva molto bene! Scusi, non c'è l'escrizione? 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 Segui molti non c'è... BOSS! BOSS! C'è l'escrizione? Ci senti! C'è l'escrizione? BOSS! C'è l'escrizione? Sì, 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 sì. . 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 S-kissà, 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 S-kissà. Noi 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 nuhi. Ah, noi noi a fai, noi noi noi? Ahi noi noi nuhi. Noi ni nuhi ne. Ah, hai, 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 hai. Noi, noni voglio non. Cosa sono malone. Di questo. Si non ho il corpo non, io non ho il corpo non ho male. Beh, perchè, perché io dirai, Guarantea you, dude, if they would've went in your pockets and saw a gun, that shit was theirs. 100%. OTT, I got a new trend for you, bro. Yeah, Vincent! OTT struck a chord. OTT, I got a new trend for you, bro. OTT, I got a new trend for you, bro. OTT, I got a new trend for you, bro. no non so ammionation might be a swap here excellent pit cornwood down on the road below the emmionation interchange on all fours 25, they're speeding towards us cornwood If you guys continue, you should see him here in a sec Affirm, they're continuing That is the silver cabriolet, that is the swap Equal stop cornwood stop Pushing out the, oh that's a ram That is a ram It's a pit That's a pit Do we have a primary here? Do we want to stick on main? That was a pit All right, keep going Understood I'm going with a rock I try I try I try I try I'm going with it There is an landing Sabus Sabus Le amat . . . . . Si è pronto Si è pronto Quattro Quattro 60 Quattro 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 Sì.